Buonasera, sono Marco Lecci, mi occupo di suono da oltre 40 anni e siamo qui sul Tevere, nella mia bellissima Roma, a realizzare, a finalizzare un allestimento per mettere in scena la Tosca. Quattro bravissimi artisti che cantano dal vivo, su basi pre-registrate di un'orchestra, con le immagini che vengono replicate sull'headwall alle mie spalle. Ho incontrato e scelto di usare tecnologia QSC Touch Mix 30, perché prima di tutto ha un grandissimo suono. I suoi pre-amplificatori mi hanno colpito immediatamente, grande dinamica e grande trasparenza. E poi, in una superficie di controllo così piccola, riusciamo a gestire 32 sorgenti e ad indirizzarle nei vari monitor, nei vari ascolti in cuffia, tutta una serie di facilities molto molto semplici da realizzare. I suoi effetti interni sono straordinari, i suoi processori dinamici interni sono straordinari e io non ho avuto nessun dubbio a scegliere questa piccola macchina, così ben organizzata, per realizzare questa cosa. Una delle caratteristiche più straordinarie di questo piccolo gioiellino Touch Mix 30 Pro è la sua versatilità. Siamo infatti postproducendo ora allo Studio Blue con Cristiano la registrazione multitraccia dell'opera della Tosca che abbiamo registrato nei giorni scorsi. I suoi pre-amplificatori ci consentono di poter catturare una dinamica incredibile anche del canto lirico che ha un'escursione dinamica molto importante. Qualsiasi band, qualsiasi sala prove, qualsiasi scuola debba utilizzare questo mixer per didattica o per avere delle registrazioni multitraccia che se curate possono anche essere trasformate in vere e proprie produzioni discografiche. Un vero gioiellino, un vero gioiellino. Il suo schermo ha delle importantissime innovazioni grafiche che consentono di comprendere con chiarezza tutte le manovre che si fanno sui processori dinamici, sugli effetti, sugli equalizzatori. Sono molto 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 felice di poter utilizzare questo gioiellino che in una semplice borsa mi consente facilmente di portare con me tutto quello che ho imparato e la possibilità di metterlo in atto. Grazie per avermi ascoltato. Marco Lecci e il suo TouchMix 30 Pro